Buonasera, 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 a me sta domenica Martino, salve, buonasera a tutti e ancora una volta benvenuti sul mio canale, sul nuovo video del mio canale, del bruciato, ancora una volta vi proponiamo ping pong, però questa volta non siamo in due, come lo scorso video, ma siamo in quattro. Oltre a me e a Monsieur Tien, ci sono 9-8 lettibarie di sé, mi raccomando se non date il tasto like, se non ci metti, se non ci supporto, abbiamo quattro carte qui, ognuno deve prendere una carta e così verranno decise le squadre, Va bene, prima di partire ricordiamo che sono 3 set a 21, 3 set totali, cioè per esempio 2 a 1, allora vinci, qui sta a 2, per chi non lo sa. Giusto per l'informazione, oltre alla impresa standard, dalla telecamera fissa, abbiamo una GoPro che ci permetterà di vedere i fallimenti sulle reti. Pronto, sono un piatti, speriamo che si venga, anche speriamo, sperando che si venga. Detto presto, batto io, devine sopra le vedi. Ok, è fallissimo io. Vidi, cioè iniziamo già a stare fanno. Sono tutte... Oh, è quello che si vede, una a sé, no? Va bene. Non mi continuiamo mai. Ok, 2, 4. Eh, 2, 2. 4, 2, 3. Questo cambia. 4, 2. Oh, questa è un po' di ricca. Questa è un po' di ricca. 5, 2, 3. Ah, 5, 3. Ah, 6, dai. Sì, voi potete riuscire. Questa è un po' di ricca, speriamo che è cambiato. È un po' di ricca. Ok. ok e poi ti dai segui dici dai dai eeeh bravo raggio per il suo sto video stavamo nooo nooo se mi si vede il culo scusate ma mi vedi tanti altri ooooooh io sto facendo il terzo lorano salve cosa stai facendo nooo ok sei ooooooh 9-6 tanto allora sono cose semplici o che sei in massa perchè un po' ooooh ooooh eh no ti ti dico ok ok oh primo fattimento a rete nooo una pippa una pippa 11-8 uuuu eh quanto fa 12 13-8 ok 15-8 14-18 15-8 nooo 15-9 15-10 cambia 15-10 cambia 15-10 16-10 16-12 17-12 17-12 bravo 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 16-12 15-10 15-10 19-12 15-10 15-10 15-10 15-10 20-12 21-12 e si vince il primo set e c'è un numero di set finito la domanda è una foto non gira n 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-13 16-12 15-12 15-14